Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo, tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 17 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A, e all'estero. Tra ritiri precampionato e il calciomercato in corso, è un mese di luglio già intenso per le squadre e soprattutto le dirigenze della Serie A, dal 2024 al 2025. La Juventus insiste per Coppainers dopo gli arrivi di Douglas Lewis, Di Gregorio e Turam, ma prima dell'assalto al centrocampista dell'Atalanta deve monetizzare con le cessioni. Chiesa, Wisnes soprattutto sulle sono i nomi più caldi del momento, sul talento argentino, oltre all'Ester, c'è il pressing della Roma. Il Milan attende Morata, il diavolo paga la clausola, attese nelle prossime ore a Madrid le visite mediche dell'attaccante campione d'Europa. L'Inter accelera per Cabele e intanto continua a cercare acquirenti per Corea e Valentin Carboni. Contatto fra Napoli e PSG per Ousimen, con i parigini che puntano allo sconto per il nigeriano rispetto alla clausola da 130 milioni, tutti gli aggiornamenti di calciomercato di mercoledì 17 luglio.